sì ho tutte le mani sporche oggi faremo i pancake ecco gli ingredienti prima di tutto avremo bisogno della farina zucchero sale latte olio e un uovo prima di tutto mettiamo la farina poi mettiamo lo zucchero sale un goccetto e poi mischiamo adesso aggiungiamo il latte dopo aver mescolato bene poi olio e infine l'uovo e poi l'uovo e questo non lo so a ho tutte le mani sporche Poi mischiamo ancora Mischiamo bene Finché è un po' liquido Intanto abbiamo anche aggiunto un po' di altra farina Perché è a poca E mescoliamo Finché abbiamo ottenuto Questa Sostanza Consistenza Ecco Mescoliamo ancora un po' E poi è pronto Vabbè non è ancora pronto Il pancake perché lo dobbiamo cuocere Mostra consistenza Adesso Mamma metti l'olio Dobbiamo mettere l'olio qua Sì amore Mette l'olio un po' di no E io? Sì Mette l'olio un po' di no Un po' di no Un po' di no Io non lo so Io non lo so Mettiamo questa consistenza E poi prendiamo questo Che ci servirà Che quando è qualche piccotto Lo possiamo girare Così si cuoce dall'altra parte Adesso lo giriamo Mamma aiutami Un po' di no Adesso provo da sola Un po' di no 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 grande. Adesso mettiamo la Nutella! non trovo mai ecco questo è piccolo quindi adesso lo mettiamo in questo piatto poi un altro questo fa anche un po' di calore poi mettiamo anche in questo e questa è la mia colazione buon appetito buon appetito buono ciao 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 ciao